Non solo numeri e non solo dati, il rapporto sulla povertà recentemente presentato dalla carità sediocesana di Frosinone ci dà conto certo di oltre 9.000 famiglie che si sono rivolte ai centri di ascolto, ma ci racconta anche delle storie. Storie di donne, uomini, bambini, perché dietro ogni freddo numero c'è una vicenda umana da analizzare e ci sono anche storie positive di chi ce la fa rialzarsi. Ed allora, in un periodo come quello delle festività natalizio, è il valore della speranza che non deve venire mai meno. Ci racconta la storia di tanti uomini e donne, famiglie, talvolta singoli, separati, divorziati, che vivono un momento difficile, soprattutto il motivo fondamentale è la disoccupazione, oppure anche tante storie lunghe di povertà, alcune volte di difficoltà a rispondere a problemi magari che durano da anni. In questo senso noi proviamo a dare risposte piccole, che sono risposte per vivere quotidianamente, per arrivare alla fine del mese, paghiamo bollette, soprattutto ascoltiamo. In questa presentazione di questi dati ci sono alla fine delle piccole storie per dire come, ascoltando, dando fiducia, aiutando, pian piano si può anche uscire da una situazione difficile, anche di povertà e di difficoltà. Certo sono cammini lunghi e non sempre si riesce, però noi proviamo, e ci sono tante energie buone, devo dire, tanti uomini e donne della nostra terra che si prestano a fare questo, che aiutano, che fanno raccolte, che distribuiscono generi alimentari, che ascoltano le persone, e questo è un bel segno anche di speranza verso questo Natale, per questa nostra terra. Io sono molto fiducioso. Io sono molto fiducioso.